personale. Occupiamoci comunque di calcio, sta per avere inizio il mondiale messicano, il Messico ha avuto il grande onore di essere... Sono inquadrati nuovamente gli azzurri, avete visto il debutante di Napoli, questo è Bergomi, Piercovo, Bruno Forte e di nuovo Al-Fotelli, i giocatori che vi ho citato prima. Annunciata ieri da Enzo Beavzot che lancia nella mischia due giovani, si tratta di De Napoli e Calderisi, comunque lo schieramento completo dei nostri, Galli, Bergomi e Cabrini difensori esterni, Scirea e Viarcovo di centrali, Fernando De Napoli debutante, Di Gennaro e Bagni a centrocampo, Altobelli e Calderisi di punta.